35 anni fa ci fu una finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, ma nessuno ricorda il risultato, nessuno ricorda cosa è successo in campo, ma quello che è successo fuori dal campo. 39 morti, 600 feriti, è stata una serata tragica, una serata indimenticabile, una serata che tutti gli sportivi non devono mai più dimenticare, perché la follia umana può arrivare a qualsiasi livello. Quindi quella sera l'organizzazione ha sbagliato qualsiasi cosa e poi è successo quello che è successo. Quindi ancora adesso è una ferita aperta, è una ferita dolorosa, noi siamo stati costretti a giocare, siamo scesi in campo per l'ordine pubblico, abbiamo fatto la partita, pensavamo a primo tempo che sarebbe stata sospesa, così non fu, siamo stati obbligati a giocare fino alla fine, però come dicevo prima il ricordo è un ricordo veramente tragico, un ricordo che nessuno di noi non potrà mai più cancellare. Arrivederci.